Continua la crescita della curva che indica i nuovi casi di contagio da Covid-19 sul territorio regionale. Nella giornata di ieri il Servizio Sanità della Regione Marche ha segnalato il ritorno in tripla cifra dei positivi, per l'esattezza 108 contagi, di cui 12 provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino. I dati pubblicati oggi riferiscono invece di 37 diagnosi positive nelle Marche e 2 nel Pesarese, con un numero di tamponi testati però riconducibile a quasi un terzo rispetto a quelli delle giornate passate, 837 contro i 2385 di ieri. Numeri che fanno riflettere ed iniziano a preoccupare. Ad Urbino si sono visti i primi risultati dell'ordinanza firmata dal Sindaco Gambini, entrata in vigore a partire da questo fine settimana e che impone la chiusura a mezzanotte dei locali per ridurre il rischio di assembramenti all'interno e al di fuori di questi. L'implementazione di controlli da parte delle forze dell'ordine è stata attuata anche a Pesaro. Non si sono registrate situazioni critiche, anche se a causa di troppe persone presenti sia nell'area interna che in quella esterna, è stata disposta la chiusura del bar Zanzibar in Largo Aldomoro. I controlli effettuati non sono riconducibili soltanto alle attività commerciali, ma anche per verificare l'utilizzo da parte dei pesaresi delle mascherine. Anche in questo caso non si sono verificate situazioni critiche. Allo stesso tempo però è stata elevata una sanzione di 400 euro nei confronti di un quarantenne che passeggiando nel centro storico risultava sprovvisto del dispositivo di sicurezza personale. Questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Pesaro è stata inoltre lanciata una campagna di sensibilizzazione promossa dall'amministrazione comunale e sostenuta anche da tanti altri enti associati, per scaricare l'app Immuni, strumento ideato per il tracciamento in maniera anonima di persone che potrebbero essere entrate in contatto con dei casi positivi al Covid. Se dovessimo venire a contatto con un positivo l'app Immuni ci segnala e a questo punto la persona segnalata deve immediatamente chiamare, se vuole, il proprio medico di medicina generale che gli darà tutte le indicazioni per contattare il Dipartimento di Prevenzione. E anche qui se vuole attivare l'app Immuni affinché, se lui è positivo, a tutte le persone che sono stati suoi contatti stretti arrivi il messaggio, può tranquillamente attivare l'app insieme all'operatore del Dipartimento di Prevenzione, di solito un'assistente sanitaria, e a quel punto arriva il messaggio a tutti. Parte oggi una campagna di sensibilizzazione all'app Immuni, ovviamente non sarà l'unico strumento perché ci dobbiamo ricordare di lavarci le mani, di mantenere la distanza e di utilizzare dei gel igienizzanti. Pesaro voleva promuovere, visto che Pesaro comunque è stata una città fortemente colpita, e quindi non ci rivolremo a ritrovare a marzo e aprile. App sono diversi i soggetti che hanno deciso di sostenere questa campagna di promozione nata dal Comune di Pesaro. Abbiamo Asur, quindi avete già appena sentito la dottoressa Esposto, le farmacie comunali e private, sono oltre 30 i punti dove noi metteremo queste locandine con del materiale informativo, ma non solo loro, ci saranno oltre 100, fra ambulatori medici di medicina generale, ambulatori pediatrici, poi abbiamo coinvolto anche edicole, tabaccherie, ma non ci vogliamo fermare qua. Quindi tutti i soggetti, tutte le persone, vorremmo essere più capillari possibili, che hanno piacere di avere del materiale informativo e queste locandine da esporre, e noi saremo ben contenti di poterle donare e diffondere. Oggi a livello nazionale abbiamo raggiunto gli 8 milioni e 300 utenti che hanno scaricato l'app Immuni, di questo il 14,7% sono marchigiani. Vogliamo aumentare questo numero.